story time evoluzione radio appassionati di storie racconti ben trovati da gianluca ruoppolo nel salotto di story time quest'oggi andremo alla scoperta di un brand di abbigliamento e accessori ce lo presenterà la sua fondatrice la qui presente natalia romasco ciao natalia ben trovata tutto ok sì buongiorno a tutti prima di tutto vorrei ringraziare la redazione di story time per avermi invitata per raccontare la storia del mio brand e la mia esperienza e spero che possa essere interessante e ispezionale per tanti benissimo grazie mille a te intanto per aver accettato il nostro invito come potete ben notare bella sorridente pronta come detto a raccontarci un po di questo brand dal nome itamaru giusto ci racconti in breve un po te chi sei da dove vieni io sono di san pietroburgo mi chiamo natalia e sono venuta a milano in 2016 per studiare a marangoni per fare masters a marangoni che è una scuola di moda famosa ho fatto masters in fashion luxury brand management e in generale sono venuta qua per fare questo master perché ho lavorato da sempre in un settore di moda in particolare da dieci anni e volevo approfondire i miei studi benissimo insomma quale città migliore se non milano è giusto perché milano è la capitale della della moda e quindi insomma eccola qui intanto complimenti per l'italiano sei bravissima sei bravissima allora come e quando nasce quindi il tuo brand itamaru quando nasce ci racconti un po sì in realtà prima di tutto vorrei raccontare proprio la storia del mio brand come è nato perché è un buon esempio come anche dalle cose brutte poi può nascere una cosa molto bella perché praticamente il mio brand è nato grazie alla pandemia perché il io in quel periodo lavoravo ancora in azienda qua a milano e poi ovviamente durante il lockdown siamo rimasti tutti a casa e tutti avevamo più tempo libero per un po pensare della vita pensare dei nostri sogni e anche iniziare qualche progetto creativo a me da sempre piaceva creare contenuti facevo i blog da tanti tanti anni e proprio durante la pandemia ho iniziato il mio blog dedicato all'italia perché perché volevo trasmettere queste idee della bella vita mostrare tutte le meraviglie dell'italia alla gente in tutto il mondo per un po supportarli durante questo periodo brutto neanche a farla a posto bella vita leggo giusto perché questo questa felpa è proprio dalla mia prima collezione che trasmette molto bene diciamo il carattere del mio brand esatto la mission i valori che ci sono dietro al brand in questo caso che cos'è questo qui un drink questo è un aperol spritz che secondo me è anche un simbolo molto milanese perché aperitivo è proprio uno dei simboli di questa città quindi è un ricamo di aperol spritz con la scritta sotto bella vita che secondo me rappresenta molto bene il mio brand perché lo slogan lo slogan del mio brand è crea la tua bella vita quindi secondo me ognuno di noi è capace di creare la sua bella vita forse anche usando gli oggetti dalle mie collezioni e quindi a me piace creare i capi che possono dare buon umore alla gente un po di positività in per ogni giorno ci sta qual è la diciamo la collezione di cui sei più orgogliosa questa qui la prima si diciamo io amo tutte le mie collezioni ovviamente però sono più orgogliosa di quella mia prima collezione che si chiamava giornata italiana e c'erano praticamente tre tipi di ricami c'erano le felpe e maliette ricamate che rappresentavano un po la giornata italiana i piaceri italiani che sono dalla mattina come per esempio colazione rappresentata dalla mocca con caffè ricamato buona qui la colazione in italia sì poi fino a aperitivo con aperol spritz certo e anche fino alla cena o chi vuole anche pranzo con una forchetta con lo spaghetto anche ricamato e praticamente questa collezione ha avuto una risposta molto molto positiva e la cosa più interessante che ancora ad oggi i capi proprio da quella prima collezione che indosso pure oggi sono tra i miei best seller a pensate quindi insomma è andata davvero molto bene ti volevo un attimino chiedere se ci vuoi parlare anche del tuo shop vedi in tutta italia ma anche fuori praticamente ad oggi o shop online non ho ancora un punto di vendita fisico però sì io vendo in tutto il mondo perché faccio le spedizioni in tutto il mondo e ho già i clienti praticamente da tutti i paesi la maggior parte dei miei clienti sono ovviamente gli europei quindi ho tanti clienti in italia ma anche in francia germania ho anche clienti in svizzera in gran britannia giappone e si giappone praticamente è stato uno dei miei primi ordini in assoluto che è arrivato proprio da giappone che per me era una sorpresa enorme perché impensabile era per me era veramente impensabile quando ho iniziato questo percorso perché quelli primi campioni che ho creato li ho creati giusto per la prova non aspettavo questa risposta così positiva come mai proprio dal giappone cosa cosa hanno richiesto dal giappone hanno ordinato praticamente due felpe tra cui era proprio se non sbaglio la stessa che indosso oggi io con aperol spritz e l'altra con spaghetzi ah fantastico ma quella con gli spaghetti c'è sempre bella vita sotto no c'è solo spaghetto ah c'è solo spaghetto questa qui però è molto carina molto carina va bene tra poco uscirà anche una linea per la casa oggi è uscita in realtà è stata lanciata proprio ieri a quindi fresca fresca sì e sono molto orgogliosa di questa collezione che stavo preparando per più di sei mesi e sono molto orgogliosa perché significa che il mio brand si stende in nuova categoria degli interni e pure il mio pure lo slogan del mio brand che crea la tua bella vita è molto in linea con questo perché la bella vita non è solo il nostro stile di vita come passiamo il nostro tempo come ci vestiamo ma anche gli oggetti di cui ci circondiamo è certo e tra le altre cose vada sia i ragazzi che unisex quindi va bene sia per la donna che per l'uomo tra i miei clienti ci sono sia gli uomini sia le donne e questi capi la maggior parte dei miei capi in particolare le felpe le magliette stanno benissimo su tutti esatto tra poco poi arriverà anche a me la maglietta ragazzi così la indosso qui anche a storitalia va bene e insomma invece la tua collezione dei sogni c'è c'è qualcosa che che progetti in vista del futuro si diciamo non vorrei ancora svegliare proprio il sogno che sogno di creare però devo dire che vorrei che il mio brand si estende ancora in nuova categoria che si può dire una categoria di cancelleria quindi spero tantissimo di realizzare questo nuovo prodotto entro 2025 25 quindi lasciamo spazio alla casa nel 2024 benissimo che dire natale è stato davvero un piacere averti avuto qui nei nostri studi ma vorrei chiederti come mai itamaru la scelta del nome perché in realtà questa parola diciamo non è non esiste è un neologismo esatto è una parola inventata però che trasmette diciamo la mia storia perché abito già da sette anni in italia ma sono dalla russia e quindi itamaru sono proprio queste parole unite con ama che è amare quindi italia che ama russia praticamente questo fantastico perché questa è una parte importante della mia storia personale che il mio progetto è nato praticamente tra questi due paesi fantastico insomma allora amici se volete creare la vostra bella vita come dice natalia c'è itamaru giusto allora se volete approfondire c'è il sito web che ita ma punto ru slash en se lo volete trovare in inglese poi c'è anche la versione russa ed eventualmente anche italiana itamaru underscore milano su instagram e poi c'è anche il canale youtube di natalia romasco giusto giusto vuoi salutare qualcuno natalia tutta la tua community sì ovviamente vorrei ringraziare a tutti i miei follower tutti i miei clienti e in generale la gente che mi sta vicino per tutto il supporto che mi danno e che mi permettono di realizzare i miei sogni salutiamo tutti coloro che ambiscono alla bella vita come fa la nostra natalia romasco ciao natalia alla prossima grazie mille alla prossima grazie mille a te ciao ciao story time evoluzione radio